Grazie a Gemini per aver fatto un brainstorm di verità, perché quello che emerge sono i magli endemici del nostro paese e nonostante questi magli endemici noi siamo ancora la settima potenza industriale del mondo. Quindi credo che l'aspetto debba essere legato a quello che hanno fatto emergere i relatori in maniera assolutamente puntuale. Abbiamo un'alternativa d'Europa, io credo senza altro di no, tutti ne sono assolutamente consapevoli, questo mercato, il mercato unico è il mercato più ricco al mondo. La competizione globale per grandi anni geografico è un dato oggettivo, credo che nessuno sfugga che ormai tra Cina e India questa grande parte del globo è denominata Cintia, tra 3 miliardi di abitanti, i tassi di innovazione e quelli demografici preoccupano tutti. Alla luce dei dati, a me preoccupa moltissimo sentire parlare che in 48 ore a Rotterdam un container che ne è slovenato, a Genova ce ne vogliono 7 giorni, perché questo significa ore perse e competitività che se ne va. Prandini sa benissimo quanto io tengo alla Russia, dal 2014 a oggi sono 4 anni di sanzioni, sono costate 11 miliardi al paese, queste cose non le decide il Parlamento europeo, le decide il Consiglio, dove l'Italia può esercitare il diritto di vero. E io credo se erano da tutti che gli americani hanno stato un'influenza sul Pacifico e non più sull'Atlantico, il nostro rapporto in termini di politica estera che significa esportazione, significa lavoro, significa fatturato, nell'Ordatica e Medio Oriente, nella zona euro-asiatica e all'altro tipo. Basti pensare che dal 2014 ai 5 anni precedenti l'agroalimentare in Russia ha fatto più 112% che è stato bruciato, perché i cinesi, i giapponesi, i turchi arrivano a competere in quel mercato, i commercianti sanno meglio di me, una volta perso un cliente non lo recuperano più. Ecco io credo che la grande visione strategica, geopolitica dei precedenti governi di Silvio Berlusconi sia evaporata con i danni che tutti noi stiamo vedendo. Banalmente io credo che esercitare delle pseudosanzioni a un grande paese come l'Egitto per motivi alternativi a ciò che è la politica commerciale abbia portato a un grande problema. Non vediamo più aerei, non vediamo più elicotteri, non abbiamo più scampi commerciali. Io penso che mai come in questo momento il nostro paese abbia bisogno di una visione che mi riporta indietro. Io penso in Enrico Mattei. Enrico Mattei è partito da un paese che era uscito dalla guerra, da una guerra disastrosa, un paese portadino, distrutto ed è riuscito con un'azienda che doveva essere liquidata a creare un polo, a creare una grande multinazionale che nei paesi in cui arrivava svolgeva una politica alternativa a quella delle Sette Sorelle. Andava dai produttori di petrolio e diceva io non voglio il 50%, mi accontento del 25% ma costruisco l'infrastrumore nel tuo paese. Paralmente quello che era stato adesso a un despoto, a un tiranno, qua ci sono 5 miliardi, qua ci sono 500 imprese d'Italia. E qui io credo che noi stiamo pagando una mancata di politica estera all'interno di un contesto indispensabile come quello dell'Unione Europea. E questo pesa sulle nostre aziende molto più di quanti non pesino nell'elenco di quello che sono le inefficienze storiche che ci stiamo portando a noi. Non c'è bisogno di più Europa, ma di una presenza italiana più ottenevole che è la presenza che deve richiamarci a ciò che rappresentiamo, uno dei paesi fondatori di questo straordinario continente, di questo esperimento politico. Ecco io credo che sia questa la sfida che banalmente tutti noi deputati europei senza distinzione di colore di partito quando si tratta degli interessi italiani portiamo avanti con fermezza l'interesse del paese all'interno di un contesto dal quale non possiamo crescere.